E' sempre tutto occupato, lei c'ha tutto occupato! Ma che cosa c'ha di libero, me lo dica, Parigi, Perù, la vasca, la Capriola! E via la Capriola, poi mi faccia parlare con qualcuno! Migliaia di furibonde arrabbiature così irrompono continuamente in questo salone dove lavorano le signorine dello 04. La linea con Parigi è occupatissima, ci sono molte richieste, che numero ha lei? Pronto, Napoli! Magenta, sì, parli pure. 3-2-8-3, stato, signore, mi creda. Pronto? In linea, numero? Ecco, prego, parli? Stato 3844, va bene. Uno di questi giorni ci faccio uno di quei rapportini coi fiocchi, ne! Oh, ma come spirituosa la signorina Bruna! La prossima mancanza come la mettiamo? Si viene a raccomandarsi alla signorina Morandie? E finalmente via! Di corsa verso la libertà, verso la vita, verso i sogni. Sì, perché in ciascuna di loro c'è un sogno, un desiderio, un'illusione, una attesa. La dolcezza di un amore che nasce. Il sapore di un bacio sincero, anche se troppo fugace. La gioia di una scampagnata. Ma non ci farei, signorina Bruna! L'imprevisto di un incontro. Ma che vuoi? Che chiamo una guardia? Ah, Bruna, stai a me a sentire, mi stai tanto antipatica, però mi piaci lo stesso, lo sai? E tu mi sei tanto antipatico, non mi piaci proprio per niente. Ne lo so. Questo delizioso, divertentissimo film che ha voluto dare un volto, un cuore, un'anima alle ignote signorine dello 04 è interpretato da Antonella Lualdi, Franca Valeri, Giovanna Ralli, Marisa Merlini, Giulia Rubini, Antonio Cifariello, Roberto Risso, Sergio Raimondi, Tina Pica e Peppino De Filippo. Maria Teresa, ti devo dire una cosa, dimmi, io ti ho fatto una mascalzonata. Come una mascalzonata? Sì, ma non è stata colpa mia, che succede? Polizia, io e lei la signorina Giovanna Arrocchi? Sì, perché? Ho un mandato. Che c'è? Portiera, portiera per piacere, signor Conti, dove sta? Mangi, mangi ragioniero, assolutamente, non c'è altro, sa, proprio assolutamente. Oddio, si fa perdire. Ho fatto un tamponcino di Modena, un'altra peperonattina. L'ora della fine sta per arrivare, le trombe dell'apocalisse già stanno per squillare. Le signorine dello 04 è un film prodotto dalla CIRAC e diretto da Gianni Franciolini. Le signorine dello 04 è un film distribuito dalla Diana Cinematografica che sarà presentato prossimamente qui.